Come si vive? Male, spero che qualcuno agisca. E teso il clima badianiano, piccola frazione del Valdarno Aretino. Le proteste dei cittadini erano iniziate mesi fa con l'arrivo di un gruppo di richiedenti asilo, 16 in tutto quelli ospitati attualmente al centro di accoglienza della frazione che si trova nel centro del paese. Ad accendere nuovamente gli animi dei residenti, adesso un ultimo episodio accaduto lunedì sera, raccontato da alcuni bambini. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire, ma stando al racconto dei piccoli che si trovavano di fronte al centro di accoglienza, due migranti sarebbero stati visti in atti osceni. Racconto riportato poi dai bambini ai genitori che loro volta hanno avvertito il sindaco e i carabinieri. Di questi bambini hanno raccontato ai loro genitori con preoccupazione, ci hanno raccontato ai genitori di aver visto atti osceni e non entro nei particolari. C'è l'accertamento dell'autorità giudiziaria, ci saranno ovviamente riscontri a quello che viene raccontato, ma certamente è un atto che turba. Adesso spetterà ai carabinieri ricostruire l'intera vicenda non ancora del tutto chiara, ma indubbiamente in paese si respira aria di tensione. Stando a quello che hanno affermato questi bambini che hanno parlato con i loro genitori ieri sera è di una gravità inaudita. Indubbiamente non sono tollerabili queste cose, assolutamente, soprattutto in un paesino tranquillo come il nostro. In paese c'è anche chi la pensa in maniera diversa. Questo dico che appena è venuta questa storia fuori non aspettavano altro, non aspettavano altro che ci potesse essere il capo espiatorio o la notizia. Io dico che vorrei capire bene quello che è successo.